Cosa succede giovedì sera al Paladozza? Per la gente di riabbracciare tutti quei giocatori che in qualche modo hanno fatto la storia del Bologna. Non avete ancora fatto le squadre ma qualche nome si può dire? Ma qualche nome si può dire? Da parte mia sicuramente i Paramatti, Binotto, Nervo, Pagliuca, Marocchi, Pagani, Roccati, mi scordo qualcuno. Quindi ci sarà una bella rappresentativa di quegli anni. C'è Bortolazzi, Olive, Perez, quindi la mettiamo sulla rissa. L'idea di Beppe è stata molto bella e positiva. Per me personalmente, come tutti sapete, è stato un idolo da bambino. Poi ci unisce un po' un'amicizia che va oltre il calcio. E allora c'erano tutte le componenti per poter aiutare a organizzare questo evento e siamo contenti. Insomma, sono due squadre agguerrite che vorranno in qualche modo superarsi l'un l'altra. E poi è una squadra di artisti che farà da spari partner anche se mi sa che è la più forte. Beppe e Marco rappresentano ovviamente la storia del Bologna. Hanno scritto delle pagine bellissime della storia di questo club. E quindi credo che sia così, anche molto utile, bello, appassionante, fermarsi e grazie a loro ripercorrere anche quei momenti così belli. E magari raccontarli anche alle persone più piccole. Visto che è un evento pensato anche per i ragazzini che magari non hanno vissuto quei momenti, è anche forse l'occasione perché qualcuno possa raccontare a loro quel periodo. E quindi, insomma, raccontare la storia di questo club, visto che io credo che è un club, come dire, debba essere orgoglioso del suo presente. Il Bologna oggi sta facendo molto bene, c'è un progetto molto serio, ma è che affonda le radici in una storia molto importante, di cui sicuramente Marco e Beppe sono due protagonisti assoluti. Grazie.